La responsabile del personale di Coseva e lo sentiamo un po' in tutti gli interventi, le persone, gli uomini, le donne di Coseva sono sempre al centro della vostra attività. Sì, è vero. Per noi è fondamentale il ruolo della persona, sia come lavoratore che come socio. E oggi penso che sia la dimostrazione di quanto noi tutti ci teniamo a questa cosa perché ci siamo visti, ci sono persone che sono venute da lontano, alcuni da molto lontano e per noi una volta all'anno, almeno una volta all'anno, riuscire a vedersi, condividere i dati dell'anno e fare un'assemblea e anche la festa finale è fondamentale. Oggi abbiamo visto anche sul palco tante persone che sembravano convinte anche della sfida che questa cooperativa deve affrontare. Sì, penso che in questo periodo, soprattutto in questo periodo, il fatto di essere uniti e di essere in cooperativa sia una cosa che aiuti e che abbia un valore particolare. Una delle particolarità che vediamo ad ogni assemblea è che Coseva premia le persone che sono in questa cooperativa da 10 e da 20 anni, una sorta di premio fedeltà che però va al di là della fedeltà. Sì, per noi questo è una cosa che ci riempie di orgoglio perché magari si può pensare che i nostri lavori che sono faticosi e umili portino le persone a cercare dell'altro e ad andarsene. Invece il personale si ferma ed è anche attaccato a questa cooperativa e quindi davanti a tutti, il giorno dell'assemblea, riconoscere questa cosa e premiarli ha un valore secondo noi particolare.